Subito un gol annullato a Montella, un intervento irregolare sul giovanissimo portiere dell'Atalanta Perizzoli, 19enne. Poi ancora Roma in avanti, qui una segnalazione di fuorigioco. E poi la geniale giocata di Totti per Montella, controllo e palla in rete. La cosa più bella della partita, la rivediamo ancora da altra angolazione. Roma in vantaggio, 25esimo minuto del primo tempo. Una Roma che poi ha cercato il raddoppio, qui un'incursione, una delle tante di Cafu. Ancora un tiro di Totti respinto, poi Ghigou e Totti che non colpisce con forza e precisione. Ecco invece il Pariggio al quarto minuto della ripresa di Bellini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, corner di Ganz e Bellini solo, che sorprende un po' Antonioli. Poi punizione di Assunzao sul palo, una Roma che ha colpito due volte il palo di destra della porta dell'Atalanta.